Ronny, ma dove mi stai portando? È una sorpresa! Ma posso togliere la benda? No, no, ancora no, dammi un attimo. Ehi, Ronny! Procedi. Let's go! 3, 2, 1... Non me l'aspettavo tutto questo. E ancora non è finita. Ma quello è Ronny Superstar? Sì, è proprio lui. Ma, cavolo, ti assomiglia tantissimo. Mi assomiglia? Ma nessuno è quello a me. Sì! Missione compiuta! Sì! Cioè! E così! Grazie a tutti.